Afano sembra di essere tornati indietro ai tempi della pandemia. Inizia con questa frase il primo comunicato stampa di Libertamarche che critica l'atteggiamento di alcuni politici sul virus dengue. Qual è lo scopo dell'associazione e qual è il vostro pensiero sulla situazione che si sta fronteggiando nel nostro territorio? Lo scopo? Siamo nati perché siamo stanchi di vedere una politica che non fa altro che alimentare le paure dei cittadini. Questo alimentare le paure serve a far chiedere agli stessi cittadini sempre più regole, sempre più controlli, sempre più sanzioni. C'è un modo per perdere la libertà. Noi ci chiamiamo Libertamarche perché invece riteniamo che sia fondamentale recuperare questa libertà individuale che il potere pubblico erode giorno dopo giorno. La vicenda della dengue è emblematica di quello di cui sto parlando. Ossia una politica che invece che tranquillizzare a fronte di un fenomeno del tutto irrilevante. Si parla di appena 115 casi su una popolazione di 60 mila abitanti. Tra l'altro con sintomi influenzali forse un po' più severi in alcuni casi rispetto a una normale influenza. Eppure questo è stato sufficiente per far emergere interrogazioni allarmistiche, far intervenire i soliti virologi a dire che la situazione è fuori controllo, a fare un quadro da psicosi che noi rifiutiamo. Non ci stiamo più a delegare le nostre libertà a questa politica, vorremmo riprenderci in mano noi il nostro destino. Chi fa parte dell'associazione? Un gruppo di cittadini, ma la parte dei quali non ha mai fatto politica, che appunto crede che sia il momento di ritirare questa delega alla politica e giocarcela a noi prima persona. Qual è l'appello che è lanciato al sindaco e ai cittadini? L'appello al sindaco è di farsi sentire, di difendere l'immagine di questa città che è danneggiata, anche nei giornali nazionali, nelle reti nazionali, dall'idea che ci sia un focolaio di un'epidemia gravissima fuori controllo. Lui deve ribadire per difendere gli operatori economici che stanno già avendo dei danni, che qui non c'è nessuna situazione fuori controllo, rispondere per le rime a quei virologi che secondo me parlano del tutto a sproposito. E anche rendere conto di cosa è stato spruzzato. Queste disinfestazioni che hanno ucciso pare ben poche zanzare, qual è la scheda prodotto? Perché non vorremmo che, sicuramente sono cose nuocue, ma non vorremmo che fosse più il male che ha fatto che il bene. Ai cittadini diciamo smettete di avere paura, usate il vostro buonsenso, vedete che la realtà non è così preoccupante come viene dipinta e appunto con noi, se vi va, venite a conoscerci e iniziamo un percorso del fare politica diverso da quello che vediamo in questo periodo. Grazie. 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 Grazie.